La sovrintendenza ha incominciato ad intervenire già nella prima fase progettuale, in sostanza quanto è stato dato l'affidamento ai progettisti, essendo come lei ha ricordato un'area super vincolata, io direi non vincolata, super vincolata, già abbiamo avuto degli incontri con il Comune e i progettisti per indicare quello che si poteva fare e quello che non si poteva fare, cioè per indicare delle linee guida. Poi a ciò è seguito anche l'autorizzazione, articolo 21, quindi l'autorizzazione formale del progetto che è stato approvato anche con qualche piccola condizione ovviamente per migliorare e ora stiamo qui come alta sorveglianza, quindi per sorvegliare che i lavori vengono eseguiti secondo le disposizioni impartite dalla sovrintendenza.